musica bella a tutti no 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 ma posso riziare così cavolo in f5 comunque bella a tutti ragazzi con l'ora in cibo ci troviamo qui su un nuovissimo video sono appena morto ho buttato un vendito incredibile stavo giusto giusto mettendo le porte per non farmi arrivare gli zombie e qualcuno veramente bastardo bastardo mi ha buttato giù si mi ha buttato giù e quindi adesso vuol dire che non c'ho più armi non c'ho picconi di ferro tra l'altro ho più diamanti che è vero avevo appena finito di cuocere perché la carne che ho messo a cuocere l'ultimo episodio andatevelo a vedere se ve lo siete perso via adesso mi faccio un set in diamanti che mamma mia gli spacco le madri in due e nada spero che adesso non lo so perché sto registrando uno dopo l'altro gli episodi spero vi sia piaciuto comunque ho perso la sciapiccone e tutto quanto perché quel bastardo lì mi ha buttato giù in tutto ciò non ho più cibo cioè ho le mele però usiamo le mele adesso sperando che non ci siano perché quelli là sono quelli del deserto che non bruciano è vero se mi butta giù sono fottuto se mi butta giù sono fottuto ok what the fuck gli slime ragazzi servono gli slime assolutamente perché servono nel tempio e io lo voglio completare quindi dopo andremo lì dopo andremo lì spero che il diamante madonna se basta oh non ho neanche più la crafting table chi se ne frega questo è terracotta io ho scritto terracotta però a me serve quella gialla guardate come si spacca che è un piacere però la trovo estremamente utile alla mia causa ma non sembrerebbe che si dovesse crepare non mi fido però un quadro what the heck va bene non mi faccio domande non mi faccio domande raga io me la risco basta questa serie deve essere solo per renderci conto sono morto appena cominciato e sono già rimorto e stavolta avevo il set in diamante ma si può essere così stupidi ah no 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 qui state tutti scherzando spero qui state tutti scherzando spero solamente di non cadere di colpo oh che culo ah ah qui si cade no ok di qui non si cade si così riesco a colpirli no 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 sono morti andrebbero morti come on baby ah non puoi salire eh starda crepa la mia roba è di lì spero spero no 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 il mio loot basciardi è colpa vostra se avevo la spada in diamante l'unica cosa che mi è rimasta ecco la merda lì che mi serve per il monumento ma in tutto ciò vi dà c'è uno spawner ah no chiudi ehm stugi 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 beh lo slime mi servirebbe in tutto ciò però in tutto ciò però e allora in teoria non dovreste più spawnare questi loshtordi ho visto un creeperino ma che carino questi me li inculo tantissimo non sai com'è potrebbe tornarmi utile facciamo anche due va ma in tutto ciò io ho perso un piccone e una spada in diamante ho fatto inizio episodio che bella la vita finchè non mi fa danno no 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 ok si ferro posso recuperare i diamanti stella pirotecnica non so che cavolo mi serva so cosa si usa in survival però va bene dai la fortuna qui è piena di crafting table yes yes guardate qui tac un bel picconcino già recuperato ma vedete porca mignotta dai nooo è la terza volta ci sono altri tre chunk e io devo andare nel deserto ragazzi mi spiegate perchè di colpo sono finito qua in mezzo che cacchio ma perchè ma ho perso di nuovo tutta la roba ma si può ragazzi ho perso ferro diamante qualsiasi cosa ok sta tornando il giorno rendiamoci conto ho fortuna per 20 bene rendiamoci conto fortuna mi dicono bene ho perso cinque diamanti in totale e tutta la mia roba è sparita anche una porta quindi non l'hai messa non chiedetemi perchè ma in tutto ciò ma perchè io posso avere tutta sta sfiga season 1 perchè cliente è diventato uno di squitte ok lì c'è l'acqua sicuro lì c'è l'acqua sicuro quello vuol dire cibo quello vuol dire cibo però mi serve legno che al momento non ho che raggata assurda mi serve del ferro quella potrebbe essere un'idea questa volta spero che mi vada meglio dell'ultima anche perchè nell'ultimo ho perso proprio tutto e ho esplotto una sola isola si e il cibo l'ho anche perso tutto nell'ultimo si prima all'inizio quindi adesso mi spiegate perchè porca una di quella ma perchè devo continuare a morire facendo figure di M perchè queste sono figure di M perchè uno zombie non è possibile che sopporti ogni giorno doveva morire bastardo minecraft ok non posso dire di una vena di ferro così grossa più grossa e allora dobbiamo andare a prendere la vena di ferro incredibile poi andiamo a prendere le zuppette dalle mucchette in questo super incredibile secondo episodio in cui ho fatto più morti che altro però ok allora adesso entri braaaavo e take every ferro everywhere boom 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 fate quanto e che finora avevamo preso avevamo minato perchè avevamo preso anche quello prima in cui siamo morti che ci sia fatto il secondo piccone siamo esplosi e ne abbiamo preso un botto 9 stop la vita è finita ora possiamo andare a prendere il cibo ed esplorare da qualche pa- diamante eh non so se riuscirò aspetta chissà nell'angolo ok non so se riusciremo a prendere ancora il diamante devo andare a prendere il carbone che ho visto di la esa la mante l'isola di funghi è piena di roba c'è prima la vena di quella di ferro adesso quella di carbone c'è è piena di roba ho visto quante roba c'è di là ok ehm ti prego fa che almeno tre inferno siano pronti lì io ti butto dentro un po' di zuppe ok la butto giù solo per dirvi quante zuppe ho fatto si esatto eh ti prego ti prego fa benissimo fa benissimo ehm take here 1 2 3 oh guardate che c***o giusto giusto però un bel un bel picconcino tecche si madò raga il salvataggio della vita ok raga oh sono riuscito a prendere un bel po' di ferro e oro in più che non guasta mai madonna se non guasta mai e spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like condividete iscrivetevi se siete nuovi condividete soprattutto e fate iscrivervi i vostri amici che a me va solo benissimo e spero che il video vi sia piaciuto questo devo tenermele lasciate like commentate iscrivetevi se siete nuovi e noi ci vediamo in un prossimo video bella a tutti raga ciao